Con voi e con il tuo spirito, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione del nostro Patrono, il Santo Vescovo Savino, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un grazie di cuore ancora a tutti, grazie per la gioia e la testimonianza che mi avete dato. Il Signore vi renda il centuplo, l'ho ricevuta dai piccoli e dai grandi. Ringrazio i sacerdoti, tutti voi, le autorità, ringrazio la banda, il coro, tanto questo patrino che dice quando andiamo a mangiare, e i portatori che dicono la finisca vostra eccellenza, perché sono le 12 e 15. Allora a tutti, come ci ha detto poco fa il nostro amatissimo Papa Francesco, buon pranzo e buona domenica.